e voglio richiamare la vostra attenzione un attimo perché il Gran Galà è un raduno che ormai è diventato un raduno del centro nord Italia con forte connotazione e partecipazione europea e prima ho citato doverosamente per i chilometri percorsi i club esteri o comunque nazionali più italiani ma abbiamo qua la fortuna di avere anche una fortissima rappresentanza degli amici del Kamekarnia che ho visto al tavolo eccoli là, ho visto gli amici del club di Jesolo anche che prima non ho citato quindi doverosamente li ho visti sul tavolo laggiù eccolo là, il nostro Filippo, il Gran Galà è una manifestazione motoristica Alfa Romeo monomarca importante, è diventata importante nel corso degli ultimi anni e io con molto piacere veramente vi invito a fare un grande applauso a un amico di stile Alfa Romeo che viene dalla regione, consigliere Morandini. Io personalmente ti ringrazio che sei venuto qua per noi. Due parole di saluto, innanzitutto grazie per l'invito e complimenti per questa bellissima manifestazione. Una manifestazione con così tanta partecipazione che va avanti da nove anni è sicuramente un vanto per il vostro club. Poi adesso mi ero preso qualche appunto perché è veramente una partecipazione che viene da tutta Italia, da tutta Europa e anche da oltre Europa con l'amico che arriva da Dubai. Per la nostra regione è una vetrina molto importante anche dal punto di vista turistico che molte persone per seguire una loro passione vengano e visitano le nostre terre e spero vi siate trovati bene e spero che vi piacciano. Quindi complimenti veramente a te, a tutto il tuo staff, a tutta l'organizzazione, l'invito a non molare, a continuare perché sicuramente per molti anni ancora questo raduno potrà solo crescere. Un saluto a tutti e viva l'Alfa Romeo. Grazie per l'attenzione, vi lascio ancora le cure dello staff del ristorante e poi torneremo per le premiazioni, finalmente. Grazie. 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 Grazie.